Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà. Vieni, Divina Volontà, pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà. Regine Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti i fraspiri più ardenti, che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà, Mamma Santa. Tu che sei la legina di questo Regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana Legina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel Regno del Volere Divino e stretto alla tua mano materna. Guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre, ti canto una preghiera Quella che tuo figlio ci ha insegnato per amore Noi ti glori, vi chiamo Noi ti glori, vi chiamo Padre nostro che sei nei cieli Sia santificato il nome tuo Padre Tu sei il mio Re Tu sei il mio Dio Sia santificato il nome tuo Padre Per sempre in te E tu in me Come un cielo così in terra 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 21 marzo 1922 Continuando il mio solito stato, stavo ripensando al santo volere divino ed il mio sempre adorabile Gesù mi ha stretta fra le sue braccia e sospirando forte mi sentivo scendere il suo alito fin nel cuore e poi mi ha detto figlia del mio volere, il mio alito onnipotente ti dà la vita del mio volere perché chi fa la mia volontà, il mio volere, le somministra il suo alito per vita e come l'alita le allontana tutto ciò che a me non appartiene e lei non respira altro che l'aria della mia volontà e siccome aria si riceve e si emette così per l'anima è un continuo ricevere me e un darsi in ogni respiro a me su tutto il creato aleggia la mia volontà e non c'è cosa che il mio volere non ne tiene il suggello come pronunziai il fiat nel creare le cose così il mio volere ne prese il dominio e si fece vita e conservazione di tutte le cose ora questo mio volere vuole che tutte le cose siano rinchiuse in lui per ricevere il contraccambio dei suoi stessi atti nobili e divini vuole vedere aleggiare su tutti gli atti umani l'aria, il vento, il profumo, la luce del suo volere in modo che aleggiando insieme gli atti suoi con quelli delle creature si confondano insieme e si formino una sola cosa fu solo questo lo scopo della creazione che le emanazioni dei voleri fossero continue lo voglio, lo pretendo, lo aspetto perciò ho tanta premura che si conosca il mio volere il suo valore e i suoi effetti per fare che le anime che vivono nel mio volere con le loro emanazioni continuano nella mia volontà come faranno i loro atti come aree li diffonderanno su tutto si moltiplicheranno in tutti gli atti umani investendo e coprendo tutto come atti della mia volontà ed allora avrò lo scopo della creazione la mia volontà si riposerà in loro e formerà la nuova generazione tutte le cose create avranno il doppio suggello del mio volere il fiat della creazione e l'eco del mio fiat nelle creature 24 marzo 1922 continuando il mio solito stato il mio sempre amabile Gesù nel venire mi ha detto figlia mia come l'anima emette i suoi atti nel mio volere così moltiplica la mia vita sicché se fa dieci atti nella mia volontà dieci volte mi moltiplica se ne fa venti, cento, mille e più ancora tante volte più resto moltiplicato succede come nella consagrazione sacramentale quante osti emettono? tante volte più resto moltiplicato la differenza che c'è è che nella consagrazione del sacramentale ho bisogno delle ostie per moltiplicarmi e del sacerdote che mi consacri nella mia volontà per restare moltiplicato ho bisogno degli atti della creatura dove più che ostia viva non morta come quelle ostie prima di consacrarmi la mia volontà mi consacra e mi chiude nell'atto della creatura ed io resto moltiplicato ad ogni loro atto fatto nella mia volontà perciò il mio amore tiene il suo sfogo completo con le anime che fanno la mia volontà e vivono nel mio volere sono loro sempre quelle che suppliscono non solo a tutti gli atti che mi dovrebbero le creature ma alla stessa mia vita sacramentale quante volte resta inceppata la mia vita sacramentale nelle poche ostie in cui io resto consacrato perché pochi sono i comunicandi altre volte mancano sacerdoti che mi consacrino e la mia vita sacramentale non solo non resta moltiplicata quanto vorrei ma resta senza esistenza o come il mio amore ne soffre vorrei moltiplicare la mia vita tutti i giorni in tante ostie per quante creature esistono per darmi a loro ma in vano aspetto la mia volontà resta senza effetto ma di ciò che ho deciso tutto avrà compimento perciò prendo un'altra piega e mi moltiplico in ogni atto vivo della creatura fatto nel mio volere per farmi supplire alla moltiplicazione delle vite sacramentali assi solo le anime che vivono nel mio volere suppliranno a tutte le comunioni che non fanno le creature a tutte le consacrazioni che non si fanno dei sacerdoti in loro troverò tutto anche la stessa moltiplicazione della mia vita sacramentale perciò ti ripeto che la tua missione è grande a missione più alta più nobile sublime e divino non potrei sceglierti non c'è cosa che non accentrerò in te anche la moltiplicazione della mia vita farò dei nuovi prodigi di grazia non mai fatti finora perciò ti prego sii attenta sii mi fedele e fa che la mia volontà abbia sempre vita in te ed io nel mio stesso volere in te troverò tutta completata l'opera della creazione coi pieni coi pieni miei diritti e tutto ciò che voglio bene questi scritti specialmente il secondo l'avremo già notato contengono delle delucidazioni delle spiegazioni da Gesù soprattutto per comprendere importanza degli atti compiuti e la divina volontà e anche delle analogie molto molto belle insomma con quello che sappiamo tutti quanti che avviene anche se magari non sempre ci facciamo attenzione no? e la meditazione è proprio un momento in cui cose che magari abbiamo sempre sotto gli occhi diventano però guardate con attenzione contemplare etimologicamente significa proprio pissare lo sguardo con attenzione verso un certo oggetto per conoscerlo meglio per comprenderlo meglio per farlo nostro allora il primo brano tra l'altro è opportunamente intitolato nella versione corrente il doppio suggello del Fiat in tutte le cose create spiega fondamentalmente una cosa fondamentale cioè Dio attraverso il Fiat ha creato tutte le cose questo è noto almeno per noi credenti insomma dai racconti del libro della Genesi la Sacra Scrittura attribuisce la creazione dell'universo tutto evidentemente con il linguaggio proprio del tempo quindi non c'è scritto che Dio ha creato le galassie nella Bibbia ma c'è scritto che ha creato le acque che sono sopra i cieli insomma però ecco il senso il significato è evidente dalla creazione dipende ovviamente dicendo il fatto che in ogni ente creato in ogni ente creato quindi dall'elettrone facciamo proprio così fino a le più grandi distanze spaziali è presente un atto di divina volontà quindi è un'opera di Dio e come dice il libro della sapienza dalle cose fatte si riconosce chi le ha fatte no? artefice si riconosce dalle creature questo non è niente di nuovo per ora neanche è niente di nuovo quello che Gesù prosegue spiegando si fece vita a conservazione di tutte le cose abbiamo parlato tante volte la teologia cattolica seguendo in questo gli insegnamenti approfonditi di San Tommaso d'Aguino ha sempre affermato che non è che Dio crea una cosa dopodiché la lascia lì e se ne sta per conto suo e quella sussiste vive e si muove a prescindere da Dio perché Dio non è soltanto il principio dell'essere quindi come causa creazione ma anche il principio della conservazione dell'essere in ogni suo istante nel tempo ecco perché Gesù in alcune parti degli scritti dice la mia volontà si trova anche nel più grande dei peccatori perché certo quello non la fa la mia volontà ma quel peccatore respira dorme mangia beve parla addirittura ha la possibilità di peccare perché io lo sto conservando nell'essere altrimenti svanirebbe nel nulla ora questa divina volontà che è il principio dell'essere della conservazione dell'essere di tutte le cose ci spiega Gesù vuole però vuole però ricevere il contraccambio dei suoi stessi atti nobili e divini e Gesù spiega che significa vuole vedere alleggiare su tutti gli atti umani l'aria il vento il profumo la luce del suo volere in modo che alleggiando insieme gli atti suoi con quelli delle creature si confondano insieme e si formino una cosa sola fu questo lo scopo della creazione e questa è una cosa nuova che ci sta dicendo qui che le emanazioni dei voleri fossero le emanazioni dei voleri umano e divino chiaramente fossero continue e uso dei termini lo voglio lo pretendo lo aspetto lo voglio lo pretendo e lo aspetto e come si realizza questo cominciando a fare gli atti nel divino volere quindi riconoscendo e facendo proprio questo che abbiamo appena meditato cioè il fatto che Dio è la causa il principio dell'essere e della conservazione di tutte le cose e quindi come faranno i loro atti come aria li diffonderanno su tutto si moltiplicheranno comincia a venire questo termine un termine chiave quello della moltiplicazione in tutti gli atti umani investendo e coprendo tutto come atti della mia volontà perché tutte le cose create devono avere il doppio suggello del mio volere il fiat della creazione e l'eco del fiat delle creature qui fondamentalmente sta dicendo questa cosa dalle creature deve essere riconosciuta e fatta propria quindi sono operazioni che come sappiamo si compiono nei giri nella divina volontà e negli atti nella divina volontà e in effetti subito dopo a tre giorni di distanza storicamente parlando perché dal 21 si passa al 24 di marzo Gesù comincia a spiegare che cosa succede quando un'anima emette gli atti nel suo volere è una cosa importante ed è una cosa a cui bisogna fare attenzione non è diciamo subito semplice mantenere questo impegno dell'attenzione nel moltiplicare gli atti nella divina volontà eppure Gesù fa degli esempi proprio molto molto terra terra e anche molto molto pratici ed anche molto molto concreti dice l'anima che mette i suoi atti nel mio volere ecco che ritorna il termine così moltiplica la mia vita con la V maiuscola sicché se fa dieci atti nella mia volontà dieci volte mi moltiplica se ne fa venti cento mille più ancora tante volte di più resto moltiplicato e qui introduce l'analogia delle ostie consacrate per me che sono sacerdote allora che cosa succede se un sacerdote sull'altare mette tre pissidi dove dentro ci sono 800 ostie a pisside con una sola consacrazione Gesù viene moltiplicato in 8 16 24 2400 ostie questa moltiplicazione non resisterà non resterà senza effetto per quanto riguarda la vita sacramentale perché non è che Gesù si diverte a vedersi moltiplicato perché gli piacciono le moltiplicazioni ecco quelle 2400 ostie sono state consacrate perché perché diventi uno cibo spirituale di 2400 anime poi sappiamo bene che da parte di Gesù sono state consacrate perché diventi uno cibo per l'anima farmaco di mortalità come dicevano i santi padri purtroppo se le anime non sono ben disposte e si accostano comunque alla santa comunione quel cibo diventa veleno ma non perché lo è ma perché l'anima è indisposta e così se l'anima non è disposta quindi non sta per esempio in grazia sa di non esserlo non essendo capace di ricevere la vita contenuta nell'ostia non deve comunicarsi ma deve anteporre la confessione sacramentale in ogni caso questa cosa che è comunque doverosa non fa piacere a Gesù perché se dipendesse da Gesù lui vorrebbe che si comunicassero tutti ma che si comunicassero tutti bene cioè che nessuna di quelle ostie diventasse come purtroppo non di rado accade vereno anziché farmaco dell'immortalità ora dice nella consagrazione sacramentale sono necessarie due cose primo le ostie ci devono stare un sacerdote che andasse a celebrare la missa e si accorge che in sacrazia non c'ha più manco un'ostia con che celebra quindi oppure ci vuole comunque un sacerdote quindi una persona che abbia un sacramento un'ordine sacro che compia gli atti necessari contenuti nella santa messa per cui gli ostiesi moltitichi attenzione questo è mi sto dilungando perché è importante che fissiamo bene queste cose e le ricordiamo allora invece quindi le ostie si moltiplicano la presenza sacramentale di Gesù si moltiplica attraverso il numero di questa materia unità la consagrazione del sacerdote ma invece la vita della mia volontà perché la volontà di Gesù è vita allora più la moltiplichi e che cosa succede? succede che più bene farà e più creatura raggiungerà da un punto di vista oggettivo poi è chiaro che da un punto di vista soggettivo la vita che la divina volontà è e ha si comunicherà alle creature in proporzione alle loro disposizioni diciamo molti sono maldisposti ho capito molti sono pure maldisposti a ricevere l'eucalistia ma questo non è un buon motivo per non consacrare ecco bisognerà certamente non accontentarsi di questo ma anche poi spiegare le condizioni per fare una buona comunione quindi formare le persone ma comunque la messa e le ostie vanno moltiplicate e così gli atti nella divina volontà vanno moltiplicati e non è la stessa cosa in una giornata farne uno farne due farne tre farne dieci o farne cento qui ci supplisce anche l'esperienza di Luisa che sappiamo bene non faceva altro dalla mattina alla sera e che perché lo potesse fare senza che come per noi ci siano mille occupazioni mille distrazioni gli è stato tolto l'impiccio diciamo così sta a letto non hai umanamente parlando niente di cui niente da fare niente di importante di cui occuparti però il problema è che Luisa era una nulla facente punto interrogativo non faceva niente cioè noi abbiamo un'idea del fare o del non fare evidentemente figlia del nostro tempo no? quando è che ci sentiamo utili o quando è che ci sentiamo inutili quali sono le cose produttive o improduttive le cose importanti o non importanti noi cristiani abbiamo un concetto di produttività di utilità molto diverso da quello del mondo adesso vogliono fare le eutanasie in giro dappertutto perché per l'essere umano non c'è nessun senso la sofferenza che motivo c'è che una persona debba soffrire sofferenze atroci senza possibilità di riprendersi questi non conoscono Cristo crocifisso è chiaro no? ma per noi figli di Dio un malato non è un essere inutile né un peso il malato è colui che sta nel corso della storia portando con Gesù crocifisso il peso dei peccati del mondo e la sua dolorosa passione per cui il fatto stesso che soffra con l'assegnazione sta facendo un bene alla Chiesa al mondo che neanche il Papa con tutto rispetto per il Papa o i più grandi evangelizzatori di questo mondo possono fare per carità al Ministero del Papa e dei grandi evangelizzatori di questo mondo evidentemente è necessario ma se non ci fosse chi prega e chi soffre quindi accompagnando l'azione apostolica della Chiesa con la sua linfa vitale che c'era insegnata a Gesù quale? 30 anni di vita nascosta e 33 anni di sofferenze e solo 3 anni di vita pubblica quindi questo per dire era improduttiva la vita di Luisa ha detto si mi fedele che la mia volontà abbia vita sempre in te la tua missione grande la missione più alta più nobile sublime divino non potrei sceglierti cioè Gesù sta dicendo non c'è nessun essere umano tutto il pianeta terra eccettuati chiaramente qualche rara eccezione per esempio la mia santa madre che abbia fatto qualcosa di più importante di te ci picchia più importante Luisa di San Francesco bella domanda insomma eh ma San Francesco ha predicato in giro in un sacco di pozzi San Francesco ha fatto questo ha fondato un ordine tutte le cose che uno ha fatto e che in qualche modo appaiono noi siamo colpiti dalle cose che appaiono all'esterno ma le cose più grandi sono quelle che non sapete proprio niente la consacrazione dell'ostia ebbene adesso la messa è celebrata ad alta voce ma non è necessario tant'è vero che per 1500 anni la consacrazione veniva recitata in segreto sotto voce non è che le ostie non c'erano capito quindi e il fatto che venga recitata ad alta voce sì è qualche cosa che consentono maggiore partecipazione se vogliamo coinvolgimento ma aiuta entro certi limiti perché non è che sentire le parole della consacrazione come dire ti rende un po' più convinto che lì c'è presente Gesù d'accordo è semplicemente un fatto sensibile comunque non si ha nessuna percezione della presenza di Gesù nell'Eucaristia e invece c'è ecco ora negli atti della dire volontà Gesù dice è più facile perché gli atti della dire volontà non ci vuole l'ordine sacro li può compiere chiunque chiunque non ci vogliono le ostie non ci vuole niente ci vuole che la tua volontà faccia un atto ed è la mia volontà dice Gesù che mi consacra e mi chiude nell'atto della creatura ed io resto moltiplicato ad ogni loro atto fatto nella mia volontà ecco perché tante volte questo chiaramente questo è una scelta io penso che sia veramente una scelta di campo nella convinzione che le operazioni più importanti e più efficaci non sono quelle esterne che per carità ripetiamo sono comunque necessarie perché la Chiesa non va avanti atti della divina volontà ci vuole chi predica ci vuole chi consacra ci vuole chi fa le opere di carità per carità ci vuole chi governa fa anche delle cose insomma molto noiose insomma per mandare avanti tutta quanta l'istituzione di origine divina ma anche umana che è la Chiesa per carità ma qual è la cosa più importante qual è la cosa che devo coinvolgermi maggiormente quale sarà una giornata utile e proficua che io la sera posso andare a dormire e dice vabbè oggi qualcosa di buono l'abbiamo combinato in base alle opere esterne che ho fatto non so quante opere di carità quante cose utili ho fatto per la Chiesa per il mondo eccetera eccetera per carità queste sono cose importanti ma sono le più importanti se ho fatto un'opera di carità contro voglia d'accordo io sono stato tutto quanto ho fatto svogliatamente tutti quanti i miei doveri non è una grande giornata anche se più o meno quello che più o meno dovrei fare l'avevo fatto perciò il mio amore tiene il suo sfogo completo con le anime che fanno la mia volontà ecco il famoso binomio e vivono nel mio volere e sono coloro che mi suppliscono non solo a tutti gli atti che mi dovrebbero le creature ma alla stessa vita sacramentale perché? perché la vita sacramentale dice Gesù tante volte resta inceppata non c'è chi si fa la comunione e ripeto se la comunione deve essere fatta malamente è meno peggio non farla piuttosto che farla malamente secondo oltre che non fare la comunione c'è un altro problema che potrebbero mancare i sacerdoti che la consacrano l'ostia e quindi la vita sacramentale è in cesta proprio quindi non solo resta senza come dire effetti perché non c'è chi si fa la comunione ma in cesta proprio e invece Gesù dice vorrei moltiplicare la mia vita tutti i giorni in tante ostie per quante creature esistono ma in vano aspetto è la mia volontà resta senza effetto capito e allora siccome questa può restare senza effetto per tante complicazioni che ci possono stare io mi moltiplico in ogni atto vivo fatto della creatura nel mio volere e questa moltiplicazione non è altro che moltiplicazione diffusione di vita con la fu maiuscola a disposizione di tutti le anime addirittura che vivono nel mio volere dice Gesù suppiranno a tutte le comunioni che non fanno le creature le comunioni non fatte e le consagrazioni che non si fanno dei sacerdoti in loro troverò tutto anche la stessa moltiplicazione della mia vita sacramentale e conclude dicendo a Luisa attenta questa è la missione più grande che potrei darti e quindi cerca di svolgerla bene quindi chiaro che i parametri che di importanza che Gesù propone qui sono ben diversi da quelli che noi siamo abituati a riconoscere come tali e questo ci fa anche comprendere come nella vigna del Signore non c'è possibilità di essere inutili né di annoiarsi perché un atto nella divina volontà può essere compiuto veramente da chiunque sono malato oh voglia fatti se sei malato meglio d'accordo come era mezza inferma Luisa così non c'hai altre cose di cui occuparti e ti occupi solo di questo per dire no quindi eh facciamo le nostre queste cose perché poi ogni giorno che passa oggi è un nuovo giorno ma gli atti che non ho fatto ieri ieri in questa vita terrena non torna più quindi il nastro ci devo recuperare gli atti non fatti no se possono recuperare possiamo farne di nuovi ecco però certamente più ne facciamo come Gesù dice 10 20 100 1000 e meglio più la sua vita resta moltiplicata più la potenza ecco salvifica divina e operante che ciò è l'unica cosa che salva il mondo non lo salvano le nostre chiacchiere ma lo salvano il contatto che il mondo stabilisce con Dio e noi dobbiamo fare in modo che il contatto sia favorito in tutti i modi possibili certo che poi deve intervenire la libertà e la volontà della creatura ecco però noi dobbiamo essere in questo senso cooperatori del creatore per moltiplicare per tutte le occasioni di ricevere come Gesù dice nel Vangelo la vita io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza e l'abbiamo bene anche oggi Santa Vergine Maria abbiamo imparato tante belle cose tra cui ecco il fatto che è assai importante non trascurare gli attimi o moltiplicarli quanto più possiamo i grandi effetti che questo produce e quanto questo è sommamente ecco desiderato da Gesù e quindi sommamente conforme al Divino Polere ecco vi piace prendere molto molto sul serio queste esortazioni di Gesù e ad essere solleciti e operosi nell'impegno non ansiosi ma certamente solleciti e operosi sì perché per quanto sta in noi possiamo contribuire a questa grande moltiplicazione di vita divina che il Signore vuole operare tra le sue creature nella divina volontà nel nome del Padre e del Sui e dello Spirito Santo Amen ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria